Se il trend epidemiologico dovesse rimanere tale, dal 7 giugno l'Abruzzo sarà a zona bianca, dove varranno solo le regole comportamentali, quali l'indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, ma non ci sarà più il coprifuoco. Oggi sono 33 nuovi positivi al Covid, il più giovane ha sei mesi, il più anziano, 85 anni. Di questi, 14 sono residenti in provincia di Teramo, 8 in quella dell'Aquila, 6 nel Chietino e 5 nel Pescarese. E quanto emerso dall'analisi di 3.861 tamponi molecolari, per un tasso di positività che scende allo 0,85%. Il bilancio dei morti registra tre nuovi casi e sale a 2.460, due dei decessi sono avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. E con gli ultimi 493 guariti, attualmente in Abruzzo sono 6.414 positivi accertati, 463 in meno rispetto a ieri. Di questi, 199 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 18, 3 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 6.197 positivi, 457 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.